Scherzo al mio cane, fingo che la mia aspirapolvere mi voglia aspirare. Vediamo come reagirà. Ma che sta facendo la mia padroncina? Ma che gioco sta giocando? Ah, voleva la mia zampa, oppure no. Ma sta scherzando, vero? Ma come si spegne questo affare? Oh, piano piano, non lo puntare verso di me! Meglio starle lontana, sennò qui va a finire che aspirerà anche me. Aiuto, aspetta, ma perché è immobile? Meglio dare un'occhiata. Se non lo salvo, che figura ci faccio in aria cani? Dai, svegliati! E comunque bastava fare così. Hai paura, amore, della spriapolvere? Paura di questo coso? Certo che no. Oh, forse un pochino.